Siete pronti per la schiacciata alle zucchine? Si cuoce in padella ed è velocissima! Mettete in ciotola farina integrale e farina zero, poi versate l'acqua, l'olio di oliva ed infine il sale. Lavorate l'impasto fino a formare un panetto morbido. Dividetelo in due parti uguali e stendete le sfoglie con un mattarello. Frullate le zucchine con olio di oliva, basilico e sale. Poi adagiate una sfoglia in padella, spalmate la crema di zucchine ed aggiungete il formaggio a fette. Sovrapponete l'altra sfoglia integrale e chiudete bene i bordi. Cuocete in padella girandola a metà cottura ed ecco pronta una schiacciata integrale con ripieno cremoso e filante. Allora la proviamo?